Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Il Regno dei Cieli è simile a dieci vergini che prese le loro lampade uscirono incontro allo sposo Cinque di esse erano stolte e cinque sagge Le stolte presero le lampade ma non presero con sé olio Le sagge invece insieme alle lampade presero anche dell'olio in piccoli vasi Poiché lo sposo tardava si assopirono tutte e dormirono A mezzanotte si levò un grido Ecco lo sposo andategli incontro Allora tutte quelle vergine si destarono e prepararono le loro lampade E le stolte dissero alle sagge Dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono Ma le sagge risposero No, che non abbia a mancare per noi e per voi Andate piuttosto dei venditori e incompratevene Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio Arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze E la porta fu chiusa Più tardi arrivarono anche le altre vergini E incominciarono a dire Signore, signore, aprici Ma egli rispose In verità vi dico Non vi conosco Vegliate dunque Perché non sapete né il giorno né l'ora